Martedì 17 marzo San Patrizio Vescovo, il sole è sorto alle 6.16, tramonterà alle 18.16, ammesso che oggi riusciremo a vedere il sole sotto questa coltre di nuvole che continua anche oggi a insistere sull'Italia, sulle Marche e anche sulla nostra città. La fotografia delle 7.30, la temperatura è di 11,5 gradi. Avremo deboli e sparse precipitazioni nella prima parte della giornata, quindi mattinata, poi il fenomeno di queste precipitazioni si esaurirà nel corso del pomeriggio, temperature in lieve aumento. Per domani, mercoledì 18, avremo temperature minime in diminuzione con cielo sereno poco nuvoloso. Per giovedì 19 invece, vedete, cielo sereno, temperature senza variazioni di rilievo. Avremo tempo stabile per tutto il resto della settimana. Allora, cominciamo dal resto del Carlino, la tragedia di questo giovane, che tra l'altro è il nipote del cantante Massimo Ragneri, che è stato trovato morto in casa, la tragedia di Andrea Nava. Il padre scopre la terribile verità, Andrea era disteso sul letto, il pigiama addosso, morto da almeno 10 ore. È stato trovato così l'altra sera, alle 21, questo 33enne, celibe, figlio di Fabio Nava e Anna Calone, che è la sorella di Massimo Ragneri, il grande cantante napoletano. Andrea è morto senza un apparente motivo, un infarto o comunque un malore che non gli ha lasciato scampo. Piove, schianti a raffica, investiti due adolescenti da un'auto in via Solferino, un tir contro un'auto a chiuse di ginestretto, coniugi sono in gravi condizioni, in particolare vi riferiamo di questo incidente prima delle 7 di sera, due giovani, un 18enne e una 17enne, sono stati investiti in via Solferino, all'altezza della deviazione di via D'Arezzo, una Fiat Fiorino guidato da un 72enne, evidentemente non ha visto i due ragazzi attraversare le strisce pedonali. Poi sul carino di questa mattina si parla del maltempo, migliaia di persone al buio, anche gli studenti al gelo, blackout elettrico a Borgo Santa Maria, con mille famiglie appunto al buio, al campus Candelara, ma anche in alcuni quartieri di Fano. In sostanza il vento e le correnti provenienti dal mare hanno depositato del sale sugli isolatori che sono posizionati in cima e tralici, mandandoli fuori uso. Dalla pagina di Fano il racconto, la storia, vita da inferno, arrestato il marito Guzzino, la storia di Maria, nome di fantasia, sposata a un tunisino, racconta l'odissea che l'ha quasi fatta impazzire, l'uomo era rientrato dalla Francia per visitare il fratello, deve scontare 4 anni e mezzo. Scuole al freddo e anche auto fuoristrada, anche qui si parla del blackout nel territorio di Fano, mentre l'incidente si riferisce a quello avvenuto nella strada che porta a Monbaroccio, intorno alle 10 e mezzo di ieri mattina, quando una coppia di perugini settantenni che stava tornando a casa dopo aver fatto visita a una parente ha perso il controllo dell'auto ed è finita nel fossato vicino ad un noto ristorante che sta lì sulla strada. La finanza sequestra 500 kg di bionde, lotta al contrabbando di sigarette, erano nascoste in un furgone bianco parcheggiato nella zona industriale, ben 546 kg di sigarette destinate al nord Europa, denunciati un fanese ed un brindisino. È un record questo sequestro, il più importante fatto nella nostra provincia a partire dal 1993. Guardate questa ragazzina, si chiama Linda Bulgani, 16 anni, di Imola, arrivata ad Urbino in comunità il 29 gennaio scorso. La mamma ha lanciato un appello via Facebook per ritrovare la figlia, figlia che era ospitata in una casa famiglia di Urbino, la Villetta, gestita da una cooperativa nella zona del Sasso. Chi l'ha vista? Ecco, c'è anche un numero di telefono che potete chiamare in caso di avvistamento. La Corriere Adriatico di Pesaro apre anche qui con la cronaca, con il ritrovamento di Andrea Nava, morto domenica mattina. Poi più sotto, Pesaro studi, si attende la decisione del rettore, mentre Expo di primavera Campanara ospita le eccellenze produtteve e il bracconaggio più in là abbatte un cinghiale nel parco del San Barto, denunciato un macellaio. Poi dalle pagine di Urbino, del Corriere sulla Montefeltro Salute, Mezzolani faccia chiarezza, poi lo chiede rifondazione per mezzo di Orlando Lustrissimi, poi Sgarbi cala un po' per d'autore, il critico ricorda Tonino Guerra e presenta quattro grandi mostre. La pagina di Fano si apre con il maxi sequestro di sigarette e poi Don Mauro, il parroco di San Cristoforo, va da Bruno Vespa per parlare dei padri separati. La città di Fano è stata presa ad esempio dalla popolare trasmissione televisiva Porta a Porta per il contributo dato alla soluzione del problema abitativo dei padri separati. Più sotto, troppi gli errori fatali in regione, Renato Claudio Minardi è il candidato del PD fanese in consiglio regionale dopo il voto dei circoli. Poi rubato da un camion il pieno di gasolio, il colpo tra sabato e domenica nel parcheggio dell'azienda del Vecchio, il valore si aggira intorno ai 700 euro, il titolare sospetta che altri furti siano avvenuti ma non registrati. Profil Glass fondi bipartisan concessi contributi a serie PD ma anche a bene comune. La CPL sostiene il sindaco. Sanatoria illegittima, si rischia l'abbattimento con ricorso alla TAR contro la misura per la Profil Glass possibile ricorso al TAR del comitato. Adaro Micioli ribalta la tesi del primo cittadino. Passaggio livello a Marotta, domani la sentenza, conferenza dei servizi a Roma ma la polemica cresce, Vergoni, in che mani abbiamo messo Marotta. Sboccia la primavera della cultura, due giorni per celebrare la festa dei borghi più belli d'Italia, torna adotta un monumento. Dalla pagina di Senigallia del Corriere rubano caldaie e rame per 50 mila euro, blitz alla Parasecoli e alla Idrosystem di Marzocca, furti anche alla Bigelli Marmi e alla Lavanderia Senigallese. Dal messaggero di Pesaro, turismo e coescontro con il sindaco. Le associazioni di categoria contro Matteo Ricci dopo le accuse di immobilismo e critiche a priori. Il giudizio negativo di albergatori e commercianti si estende dalla notterosa all'intero settore. A centro pagina il padre lo trova senza vita a letto, un giallo, la morte di Andrea Nave, il giovane era nipote di Massimo Ranieri, disposta l'autopsia. Migranti non più in albergo. Si stanno studiando alternative. Il sottosegretario all'interno, Bocci, è arrivato ieri a Pesaro. Meglio in strutture e comunità diffuse nel territorio. E direi proprio di sì. Area popolare dal notaio, il grande centro allo start. Nonostante le resistenze dell'Udcimar che aggiorna l'annuncio di spacca candidato. Il centrodestra si riunisce giovedì pronto ad offrire una sponda decisiva. E ancora la cronaca sempre sul messaggero. Non andiamo oltre, l'ultimo saluto a Righetti, ex vice sindaco della città di Pesaro, fu consigliere regionale dal 75 all'85. Il funerale ieri nella chiesa di Loreto. La città gli deve tanto. E poi ancora i ragazzi, dalla pagina di Pesaro Urbino del messaggero, i ragazzi cercano alleati per salvare Pesaro Studi e annunciano battaglia. Poi un'altra notizia che viene pubblicata questa mattina sul messaggero, sfrecciava in Porsche, ma lui era in casa nella sua regione, in Sicilia. Sfrecciava ai 140 all'ora con la sua Porsche sull'autostrada all'altezza di Pesaro quando l'obiettivo dell'autovale Oxlain è immortalato. E' multato, anzi multata, perché poi alla guida del bolide c'era una donna, una signora originaria di un piccolo paese della Sicilia, che un bel giorno si è vista recapitare a casa i verbali delle contestazioni. A sua insaputa, una signora si ritrova multata a Pesaro dell'autovelox e con la patente ritirata. Cioè tutto poi il racconto sulla pagina di oggi del messaggero. Il messaggero di Fano invece che apre con i blackout continui, con i disagi relativi e le proteste. Da domenica centinaia di segnalazioni in numerosi quartieri. Le interruzioni di energia elettrica hanno riguardato anche Marotta e diverse zone del Pesarese. Tutto questo, come abbiamo detto, è visto soprattutto per la questione del sale che è finita sugli isolatori. Lavoro e vertenze, un tunnel senza sbocco, consegnate ai 146 addetti dei cantieri navali fanesi, le lettere di licenziamento e alla map industriale le 30 operaie entrano in stato di agitazione. Ancora cronaca, le finanze scoprono deposito di tabacchi di contrabbando, nei guai è finito anche un fanese. L'economia è più digeribile con i fumetti del Mariten. Questa è l'altra notizia che potrete trovare sulla pagina del Messaggero. Poi si parla della lezione antirazzista sul campo di pallone. Evidentemente si parla della partita di calcio che è stata organizzata dai ragazzi del Grizzly con i profughi alloggiati nell'albergo Plaza al Lido di Fano. È tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali torna domani mattina come sempre alle 7.30. Stasera invece alle 20.30 c'è Occhio alla Notizia. Ma vi ricordo che abbiamo la nostra applicazione gratuita su Google Play, quindi un'applicazione che può essere utile anche per le segnalazioni e quant'altro, per essere sempre informati e aggiornati. E poi il nostro sito dove troverete tutti i filmati, i servizi, il telegiornale, la rassegna stampa, Occhio alla Notizia.it. Arrivederci.